Si intitola Quanti amori ed è il musical che raccoglie i grandi successi musicali di Gigi D'Alessio in scena da domani 11 aprile al Teatro delle Palme di Napoli prima di iniziare il tour italiano. Prodotto da Edoardo Senior e Alessandro Tartaglia della Mitar Group, lo spettacolo è stato presentato alla stampa dal cast al completo con irruzione telefonica dello stesso Gigi D'Alessio. Il musical che attrae i protagonisti Maurizio Casagrante è stato scritto e diretto da Edoardo Tartaglia. È un'avventura emozionante, pericolosa e questo ci dà quel pizzico di adrenalina in più perché sicuramente andare a toccare un canzoniere di successo come quello di Gigi D'Alessio evidentemente oggi è un'avventura teatralmente parlando che incuriosisce moltissimo. Perché questa operazione? Perché ho avuto un incontro piacevolissimo con Gigi qualche anno fa quando appunto lui fu gentilissimo nel concedermi un suo successo per la valigia sul letto versione cinematografica e insieme ai miei cugini Edoardo Senior e Alessandro Tartaglia ci venne questa idea di provare a vedere che cosa poteva venire fuori dalle sue canzoni in un'operazione teatral musicale. Lo spettacolo resterà in cartellone al Delle Palme fino al 22 aprile. Conclusa la tappa napoletana approderà poi al Teatro Alfieri di Torino dal 2 al 6 maggio mentre dall'8 al 20 maggio sarà al Teatro Nuovo di Milano. Per Casagrande un'ulteriore scommessa in una carriera ricca di successi. Sono ancora piccolo quindi devo capire io da grande che voglio fare per cui ritengo che la cosa fondamentale è continuare a cercare nuovi spazi di espressione perché credo sia il dovere di ogni artista, forse è una parola grande, ma insomma artigiano di questo mestiere trovare nuovi spazi, nuove possibilità. Quindi quando mi è capitata questa ipotesi l'ho accolta volentieri perché ho detto ma sì perché no. intanto mi diciamo a lavattere proprio questa volta, no non mi vinceranno proprio questa volta.